Dopo otto sconfitte consecutive, la VL risorge in maniera prepotente prendendosi lo scalpo eccellente della capolista Germani Brescia alla Vitri Frigo Arena. Prima gioia per Sacchetti, prima vittoria del 2024 alla prima presenza di Justin Reitforeman che si rivela arma decisiva per una vittoria netta e ottenuta con merito. Alla sirena il punteggio sentenzia 93 a 83 al termine di una partita approcciata in maniera arrembante fin dai primi possessi. Reitforeman crea il solco da subito con le sue bombe per un 4 su 5 dalla distanza e un totale di 25 punti a corredo di una prestazione da MVP fin dai primi scatti sul parquet della Vitri Frigo Arena. Accanto all'ultimo arrivato gira bene tutta la squadra che imbastisce una performance collettiva capace di onorare al meglio la domenica dell'intitolazione della curva alla memoria di Marco Piccoli. Nella serie B di basket grande prestazione dell'Ital Service Loreto nella prima partita della fase play-in gold. I peseresi vincono 75-61 in casa della quotata Virtus Roma e guardano con fiducia alla prossima gara interna con Fiumicino. Nella pallavolo la Megavox Vallefoglia trova i tre punti che cercava ai danni del fanalino di coda Itas Trentino che come previsto ha dato grande filo da torcere alle Tigri per due terzi di partita prima di crollare di schianto nel terzo parziale. Un 3-0 contrassegnato dai parziali 25-21, 25-23, 25-15. Nel rugby si ferma la striscia positiva della Fiorini-Pesaro che sul campo del Val Sugana non riesce a bissare il successo dell'andata. I Veneti hanno la meglio per 35-17 lasciando i Kiwi a mani vuote. Nel calcio invece preoccupante seconda sconfitta consecutiva per la Vispesaro che come Recanati perde 1-0 anche nel sabato del Benelli col Ponte d'Era. La sconfitta arriva solo al 93esimo quando Especie correge in rete un'azione nata sugli sviluppi di calcio di punizione regalando il blitz ai Toscani e punendo una vis mai brillante e non aiutata dall'espulsione di Obi che prende due gialli in 16 minuti dal suo debutto al Benelli. La vis rimane fuori dai play-out ma con un vantaggio che in due partite si è sottigliato da 4 a 2 punti e domani si torna in campo nell'infrasettimanale di Pineto alle 18.30. Beffa nel finale anche nel calcio 5 con l'Ital Service Pesaro che venerdì sera ha perso 4 a 2 la sfida di Sala Consilina. Pesaro è stato avanti con merito per tre quarti di gara ma sull'1 a 2 costruito sulle reti di Murillo e Caruso ha sprecato troppe chance per scappare via e alla fine è stata affreddata dal portiere di movimento avversario.